Benvenuti nel cuore del gossip italiano express. Prima di rivelarvi gli eventi di oggi, vi chiediamo il vostro supporto con un semplice gesto. Un like a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di immenso valore. Grazie di cuore. Nel video di oggi, affronteremo una notizia straordinariamente commovente riguardante Mauro Corona, annunciata in diretta durante l'ultima puntata del talk show, Carta bianca, condotto da Bianca Berlinguer. Mauro Corona, noto scrittore e personaggio televisivo, durante la trasmissione ha lasciato trasparire le lacrime, rivelando un lato più sensibile della sua personalità. Condividendo una storia personale che lo ha profondamente colpito, l'emozione di Corona è scaturita dalla scomparsa di un giovane ragazzo di nome Lorenzo. Visibilmente commosso, ha raccontato in una recente puntata, abbiamo cercato di aiutare un ragazzo di nome Lorenzo. Gli avevo parlato tramite la trasmissione e gli avevo mandato un piccolo gufo profumato per fargli compagnia e dargli energia. Mauro prosegue dicendo, mia figlia Marianna mi ha comunicato che questo ragazzo di 14 anni non ce l'ha fatta. Non so nemmeno se abbia ricevuto il mio gufetto. Questa notizia ha colpito profondamente il pubblico, mostrando un lato inaspettatamente vulnerabile di Mauro Corona. Riflettendo sulla brevità della vita, soprattutto quella dei giovani, Corona afferma che la vita umana è come un romanzo. Qualcuno ha 100 pagine, qualcuno ha 40. I bambini che muoiono così giovani hanno solo la copertina, non hanno avuto il tempo di scrivere quel romanzo. E voi, cosa ne pensate del pensiero di Corona? Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente e scoprire cosa è successo dopo questo toccante racconto.